E' stato il decimo taglio del nastro per Pescaiola da vivere, la grande festa di inizio estate targata a Confcommercio. I negozi di vicinato per noi sono importantissimi, noi abbiamo sempre, ci siamo sempre battuti e cerchiamo di fare anche politiche per far conoscere i negozi di vicinato, per far sì che questi possano continuare ad esserci, non solo per il servizio per tutta la popolazione, ma anche come presidio sociale, perché quando si spenge una luce in una strada è chiaro che questo incentiva la microcriminalità, per cui arriva il degrado e l'abbandono. Una serata attesa dai commercianti della zona diventato ormai simbolo per tutto il quartiere. Abbiamo dei quartieri che sono più frazioni quasi che quartiere, sono quasi micropaesi, quindi c'è anche un senso di appartenenza molto spiccato, molto diffuso. Se pensate che Pescaiola è un quartiere che ha migliaia di abitanti, ci sono frazioni che ne hanno molto di meno, quindi diventa più una festa di paese che di una strada o di un quartiere e quindi ha un perché ancora maggiore. È un luogo dove tanti negozi si sostengono perché la varietà dei settori merceologici è molto rappresentativa e soprattutto è quella che fa sì che diventi anche attrattiva perché si avvicina a questo centro commerciale naturale per poter fare anche degli acquisti oltre che per partecipare a questa festa di questi giorni che davvero è da applauso e ovviamente da ripetere come hanno fatto tra l'altro altri quartieri della città. Ad animare via Alessandro Dalborro, via Benedetto Croce e largo primo maggio, come sempre musica, intrattenimento, ristorazione, laboratori per bimbi ed ovviamente shopping sotto le stelle con i negozi aperti sino a mezzanotte.